ci ha messo davvero poco Federico Agliardi ad accettare la corte del Cesena il perché lo spiega direttamente lui che mai aveva veramente reciso il cordone umbilicale che lo legava all'ambiente bianco-nero io credo e sono fermamente convinto che alla mia età certe situazioni e certe sfide sono uno stimolo in più per poter dare un contributo ancora maggiore a una città che a me ha regalato tanto una tifoseria che mi ha sempre appunto dato tantissimo e quindi non è stato difficile trovare la quadra nel giro di poco Agliardi dovrà offrire al Cesena quel contributo di esperienza e di personalità tra i pali che l'estremo difensore ha sempre garantito e che adesso metterà a disposizione anche dei suoi giovani compagni di reparto in primis lo stesso Sarini La competizione è il mio pane penso che sia giusto che ci sia competitività all'interno di un ruolo ma io non voglio assolutamente mettere nessuna pressione ai ragazzi come ho detto prima e come ha detto giustamente il direttore io sono qui per aiutare e per vedere al di là di tutto quello che succede nel campo perché bisogna preservare il bene comune il bene comune e il Cesena tutto lì Grazie mille